Da Fratelli d'Italia, siamo arrivati all'interno del partiturale di Forza Italia, siamo con alcuni colleghi, cautela, 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 per chi è dal primo momento qui una stesa di commentare exit poll e ovviamente proiezioni? Tutti in cautela, all'inizio ci avevamo detto che qualcuno avrebbe fatto delle dichiarazioni, invece ci avevamo scelto le prime proiezioni e ci sono che si era stanca per Antonio Dairni, quindi ora stiamo in attesa, perché stiamo aspettando che venga consolidato il sorpasso con la lega, la prova dell'oro? Sì, sì, cautela, ma vedo anche molto attivismo, un sorriso sotto i baffi, diciamo, abbiamo visto passare il primo Presidente Lutito, anche Gasparri, diciamo, erano, sembravano soddisfatti, però cautela. L'aiuto al centro di terra politica di Roma De Rati, Maurizio Lutri, che è appena entrato, stiamo aspettando qualche dichiarazione della preghiamina. La prima è stata uscita dalla stanza con il video del partito.